Il progetto è un'iniziativa per utilizzare al meglio una struttura pubblica che in questo momento è del Ministero della Giustizia perché sede della formazione delle guardie penitenziarie e che ha al suo interno quattro impianti sportivi, una struttura residenziale, una mensa molto grande che può essere ben usata dalle attività che il CONI fa attraverso le sue federazioni sia per eventi locali sia per eventi nazionali e internazionali. Quindi stiamo lavorando perché tra il CONI che è un ete pubblico e il Ministero della Giustizia e il demanio che proi quello che gestisce questi beni pubblici si trovi al più presto possibile un accordo, un'intesa che possa fare utilizzare al CONI in tutte le sue potenzialità questa bellissima struttura che in questa fase è poco utilizzata. Ecco, quindi questa è l'intenzione che noi abbiamo ed è anche, diciamo, abbiamo avviato una trattativa che è a buon punto e spero in tempi brevi si possa concludere proprio per ridare anche alle popolazioni di quel circondario una struttura che avendo impianti sportivi e tutti sanno quanto abbiamo bisogno di impianti sportivi in questa nostra terra possa essere utilizzata al massimo nelle sue potenzialità. Grazie